buongiorno a tutti ragazzi mi chiamo Michele qualcuno mi conosce già per ciò che ho fatto basta guardare la mia playlist inerente al montaggio di una figura molto conosciuta iron man questo invece è un video il primo di quelli che mi auguro seguiranno dove io vado a non fare una recensione al momento di una pistola sto parlando della co2 in questo caso un caricatore co2 che però successivamente per chi fosse interessato troveremo anche una quadra per il caricatore co2 o green gas che dir si voglia no che dir si voglia chiedo scusa o uno o l'altro di calibro 6 6 mm in questo caso però sto parlando del 4,5 cioè nella fattispecie non del diavolo ma del pallino del praticamente di questo ok ragazzi i video che faccio io sono video abbastanza spartani ripeto chi mi conosce lo sa io amo molto le persone che sanno fare i video con la musica con tutte le varie cose che possono mettere in mezzo perché sono accattivanti e mi piacciono molto e spero un giorno di poterci riuscire anch'io a farle in merito sono abbastanza ignorante comunque questo invece vuole essere un video molto semplice per farvi vedere un'idea che sinceramente non so se è già stata fatta ma io ve la faccio vedere lo stesso questa è una pistola co2 ragazzi è ovviamente non vera sto cercando di aspettate che sposto un po così se diventa un po questo nella fattispecie della swissarma poco conta comunque allora prendiamo il caricatore quando acquistai questa pistola che per quello che costa e fa è veramente al di sopra di ogni mia aspettativa la si operate tutte allora quando ho acquistato questa pistola la difficoltà era per me di caricare perché quando andate a prendere i pallini è vero potete metterli sopra ve ne cadono in infinità mettete una scatola di scarpe quello che volete sotto e li ricoperate per carità però se volete diciamo divertirvi in maniera un po più veloce più sbrigativa è vero che abbiamo l'incastro del qua sopra vediamo se ci sta sì abbiamo l'incastro qui della molla che ferma la molla che ti fa cita il caricamento di qua io evito da metterli io evito di farli entrare da questa parte non so se poi sbaglio è vero che si possono sostituire i pezzi per carità però evito di farlo perché possono allargarsi poi diciamo la sede qua della sfera per cui magari poi non vi trattengono più i pallini però al di là di questo anche se questo non dovesse accadere io ho pensato a un'altra cosa molto semplice tanto come posso dire tanto funzionale quanto banale allora ho comprato sto parlando chiaramente del metodo più veloce chiedo scusa il metodo più veloce per poter caricare queste cose che poi sono fastidiose sono da caricare sono abbastanza lunghe nella fattispecie questo tiene 18 sfere 18 sfere d'acciaio che qua sono sono rivestite con del rame sempre 4,5 differenza piccola curiosità per chi non lo sapesse la differenza tra queste sfere e il diabolo non è ovviamente il calibro in quanto è lo stesso solo queste sfere non le potete sparare perché se non la rovinate nelle pistole dove si sparano i piombini che hanno canna rigata infatti queste sono esclusivamente per canna liscia perché se no ammesso che passassero all'interno della canna e ho i miei dubbi però ammesso che passassero ho i miei dubbi perché la canna è 4,5 poi ci sono chiaramente le rigature destrorse parlo del piombino non di questa ragazzi non di questo co2 con il 4,5 sfere il piombino chiaramente deve essere schiacciato dalle righe per dare il senso rotatorio di avvitamento verso l'altro visto che tende a scendere ovviamente con la forza di gravità al colpo quindi si avvita nell'aria che è un fluido e tende ad andare in su questo succede anche è nato per le pistole per i fucili ovviamente quelli veri in questo caso ecco questo la potete invece sparare solo nella canna liscia senza righe quindi non facciamo stupidangi che poi rovinate allora torniamo a noi ho comprato delle penne che possono essere delle bicche io ho preso queste qua le ho pagate 1 euro e 55 pezzi e semplicemente sono andato in questo caso si svita qua dietro ma poco conta vediamo se non ne prendo già una che avevo svitato che avevo messo perché già avevo provato prima a svitare non ci sono riuscito perché devo prendere la pinza sono chiuse bene vediamo questa no la nera eccola qua perfetto andiamo a prendere la nera scusate i miei ragazzi io non mi preparo nulla forse faccio male ma non saprei nemmeno cosa prepararmi poi tanto alla fine quando mi metto a parlare dico un po di tutto sempre spero inerente a quello che è l'argomento allora questa come vi dicevo è una delle penne ripeto ragazzi poco conta vi dirò poi cosa è importante poco conta qualsiasi sia la marca importante che chiaramente entri il pallino dentro e questo non ci sono dubbi perché è più larga di sicuro in questo caso si svita poi ci sono quelle a pressione non ci sono problemi la stessa cosa sfilo chiaramente questa che non mi serve sfilo la punta che non mi serve sto cercando di inquadrare i miei ragazzi poi quando diventerò un po più diciamo tecnico a livello di appunto strumentazione non so come si possa dire allora potrò fare inquadrature anche sicuramente migliori di queste comunque è il succo che ci interessa allora io prima vi faccio vedere cosa ho fatto e poi vi faccio vedere come farlo ok allora una è qui arrivo ragazzi un attimo solo che sto prendendo allora una è questa e l'altra è questa adesso vi faccio vedere guardate ok è ovvio che è la penna di prima no cioè nel senso è l'anima di questa penna qui però qui sono già state fatte allora in questo caso vi faccio vedere una cosa questo tiene nella fattispecie 18 colpi 18 colpi chiedo scusa 18 sfere ok colpi è un'altra cosa comunque 18 sfere cosa faccio io prendo questo poi vi faccio vedere come ho fatto è molto semplice ragazzi molti di voi sicuramente non avranno bisogno nemmeno di fare questo comunque io ho all'inizio guardate vi faccio vedere metto all'interno questa vado su e giù senza guardare niente vado su e giù poi la inchino un po ovviamente controllo che si avviene fino a sopra ok se io vado a contare queste sfere sono 18 aspetta ve le faccio contare a voi va 1 2 3 vedete sono 18 sono 18 perché ovviamente io le ho misurate prima e le ho tagliato e ho tagliato la plastica dove mi interessava cosa faccio prendo questa facendo attenzione a non farmi male perché comunque bisogna avere un po lunghia lunga e ragazzi l'unica cosa fastidiosa è questa perché come vi dicevo prima questo si vi permette di agganciare ma vi facilita di qua ma di qua no perché chiaramente dovete passare il punto morto ecco guardate dove passano le sfere guardate aspettate sto cercando di vedere se fa fuoco ecco vedete in questo caso adesso scusate ragazzi perché io devo tenerla a molla guardare dentro il telefonino e guardare che non esca dall'inquadratura comunque guardate se non viene un po fuoco vi chiedo scusa ma guardate qua ecco fatto abbiamo riempito immediatamente il caricatore ci ho messo forse cinque secondi quattro perché dovevo guardare adesso lo svuotiamo così per svuotarlo chiaramente basta tirare indietro qua superare di nuovo il punto morto dove punto morto intendo forse non è nemmeno da chiamarlo così intendo il punto dove è più largo la fresatura qui e quindi il consente ai pallini di uscire ai pallini sì alle sferette allora scarichiamo ok abbiamo scaricato questa era la prima che adesso faccio andare un momento via il secondo metodo è questo prendete sempre chiaramente poi vi farò vedere ragazzi il tutto che ci sono delle misure ma è molto semplice prendete questo lo chiudete ovviamente è anche buono perché questo foro qua quando ve lo girate non vedete non fa uscire nessun pallino ovviamente man mano che si scarica lo terrete più basso nel senso quando questi arriveranno qua terrete la plastica più in giù se non entra basta fare così ed entra vedete ok adesso li mettiamo lì dentro l'altro metodo è questo dipende se voi cosa preferite allora andate a fare semplicemente così su e giù ok poi quando è praticamente pieno andate giù piano piano senza farlo uscire prendete in questo caso ho preso uno stuzzicadenti ragazzi ma anche questo perno va bene lo stuzzicadenti perché si ferma perfettamente la plastica senza guardare alcuna misura perché ovviamente l'ho già presa prima faccio così metto questo davanti scarico vedete guardate qua vedete che lo fermo ok andiamo a contarli dovrebbe essere 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 18 vedete ora non è magia questa ovviamente no in questo caso sfilo questo dopo stessa cosa stessa cosa di prima tiro indietro questo aspettate che guardo il foro se non esco dall'inquadratura buono spero di no guardate qua l'avete visto molto semplice ok adesso togliamo tutto ripeto non so ragazzi se esistono delle cose la prima recensione non è una recensione scusa è il primo video che faccio in merito fatemi sapere comunque è molto semplice cosa ho fatto guardate comincio proprio da zero eh molto velocemente ah poi c'è un altro metodo eh ragazzi l'altro metodo che mi è venuto in mente prima non vi ho levato neanche il chiodino vedete questo è un ferma filo da tipo antenna quelli che vengono messi sul muro e tengono l'antenna il filo dell'antenna dentro in questo caso voi andate semplicemente a prima di togliere questo dietro andiamo a rimetterlo ci sono quelli che si incastrano semplicemente a spinta a pressione ci sono e questi nella fattispecie filettato comunque in questo caso io va bene questo è da tagliare ecco la prima cosa da fare arriviamo a noi poi vi dico arriviamo anche a questo ragazzi vedete i video sono proprio fatti così da me però l'importante che che voi appreziate e che io riesca in questo modo a a spiegarmi bene allora ovviamente io metto un pallino qua dentro guardate un pallino ok lo metto all'interno e vedo dove arriva ovviamente vedete non passa ok prendo la mina dietro la mina la l'anima dentro la faccio andare la faccio calzare fino in fondo tengo premuto così vedete non torna indietro io ho la misura prendo il seghetto ragazzi non dovete essere perfetti nel sé l'importante che vi passi sopra la sotto la sfera se vedete che avete tagliato troppo in punta e non passa ancora beh prendete una limetta e ripassate allora io tendenzialmente vi consiglio non la punta perché è più sottile chiaramente della sfera è ovvio no è meno è meno larga e quindi la metà della sfera quindi la segnate levate il tutto se non bastasse poi la limiamo di nuovo non c'è problema ragazzi allora aspettate non devo uscire dall'inquadratura comunque ragazzi qui si tratta semplicemente di tagliarla io uso questo seghetto vedete voi non abbiate fretta che la spaccate che sono plastiche molto rigide quindi non è che sono flessibili si crepano subito se no è vero che ci vuole un attimo per rifarne altre ecco fatto poi prendiamo l'accendino un attimo velocemente scaldiamo non troppo ovviamente e proviamo la sfera se passa dove è andata la sfera ecco la sfera eccola qua scusate ragazzi sono uscito un attimo dall'inquadratura abituatevi perché io lo faccio spesso purtroppo finché non ho quello che vi ho detto prima allora in questo caso guardiamo se passa spingiamo leggermente vediamo un po ho fatto un po troppo giusta e allora cosa faccio allargo un po con la limetta leggermente appena appena non bisogna esagerare poi riprovo un attimo la rifinite un po in punta proviamo di nuovo se non basta un'altra limatina no vedete perfetto è passata a questo punto avete due o tre metodi diversi il primo ovviamente rimettete il tappo dietro qua perché potete riavitarlo è ovvio però fate attenzione perché se il vostro tappo è a zero cioè qui è chiuso ed è difficile non ci sono problemi se no dovete considerare che questo va dentro vedete e non deve andare dentro quindi io o prendete della carta e la mettete pressata dentro a filo ok quindi diventa un tappo chiuso oppure io semplicemente ho preso un tappo di quelli di gomma l'ho tagliati a metà quelli delle delle bottiglie quelle un po più non so se dire scadenti o forse comunque quelli lì e faccio così ho messo l'ho segnato dentro avanti indietro avanti indietro l'ho tagliato quello pressato forte 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 così si è tagliato perché di gomma abbastanza morbido prendo il mio taglierino non vi tagliate le mani ragazzi ok così vedete ok vedete e lo inserisco lo inserisco e lo taglio a filo ok vedete perfetto vado a riavitarlo ah quando fate questo lavoro ragazzi vi consiglio di passare dentro uno un pezzo di carta bagnato più volte per levare le piccole limature di plastica perché queste piccole limature di plastica non le sottovalutate almeno dopo aver fatto il lavoro poi non ci sono problemi perché se vi vanno in mezzo ai pallini sapete che la tenuta è dettata dai or quindi gli o-ring quelli di gomma quindi basta un granello di questi e vi cominciano a perdere ok ragazzi quindi mi raccomando pulitele comunque allora riavvito in questo caso cosa faccio ovvio vado a contare quanti pallini mi tiene la mia pistola nel caricatore perché non penso che siano tutti uguali questa ne tiene 18 allora io cosa faccio semplicemente la riempio vado avanti indietro guardate quanto ci vuole riempirla ecco fatto guardate qua fate attenzione quando la fiegate vedete che è piena zeppa e vado a contarmeli ragazzi guardate ok la plastica dove l'ho messa quella di prima eccola qua vado a contarmeli adesso ragazzi non li conto vi faccio solo un esempio conto quelli che mi servono blocco qua ad esempio se questo è il diciottesi e il diciannovesimo e ne servono diciotto io lo blocco qua ok e posso io ve lo sconsiglio posso decidere di non fare alcuni alcun intervento come quello vi faccio vedere adesso è semplicemente arrivare alla linea di questo e buttare via gli altri però è ogni volta dovete fare un metti e controlla cioè che ne so lo rimettete dentro e poi dovete andare a vedere quanti ve ne sono rimasti sono messi tutti e quindi ve lo sconsiglio a questo punto e questo ve lo vi fate un segno quindi lo leviamo potete fare così se volete però ve lo sconsiglio ve l'ho fatto semplicemente vedere per chi non vuole bucare a questo punto ripeto mettiamo dentro i pallini ok la mia pistola me ne tiene 20 21 perfetto facciamo finta che questi siano 21 ok sono 21 io cosa faccio prendo un pezzo di carta un nastro oppure qualsiasi tipo di nastro vedete mi fermo sopra il pallino l'importante è che non vado su di un altro pallino quindi se vado su di mezzo pallino va benissimo ecco io non li ho contati facciamo finta che questi sono quelli che vi interessano e ributto il dentro tutto ok poi prendo un ferro un chiodino quello che volete voi io vi do la misura mia ragazzi poi decidete voi quale perno all'interno io in questo caso con questo perno e conne questo lo stuzzicadenti ho bisogno di un ferro che sia un millimetro e mezzo ok ragazzi un millimetro e mezzo lo scaldate semplicemente non lo fate diventare rovente 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 perché vi si dilatta tutto il buco deve essere scaldato caldo sì certo ma quando sta per diventare rovente lo levate da quando non vi bruciate e semplicemente bucate a filo a filo semplicemente non più basso perché poi piuttosto un come posso dirvi un foglio di carta più alto o se vi siete tenuti appena un po più alti con questo ma non di un pallino sennò ve ne viene uno in più forate da una parte all'altra ok una volta fatto questo chiaramente questo lo togliete avete il foro che in questo caso qui è questo vedete ok vedete l'ho fatto prima e poi lo pulite bene stesso discorso lavatelo bene asciugatelo non fate andare dentro residui di plastica una volta fatto questo semplicemente fate quello che vi ho fatto vedere prima uno tirate via stuzzicadenti tac e rovesciate quello in più ecco e qua come potete vedere ce n'è 18 che è la misura che ho fatto prima ultimo metodo ultimo metodo che è questo vedete voi cosa preferite in questo caso fate la stessa cosa quindi stesso discorso di prima mettete il pallino tagliate a metà pulitelo bene dentro però non la tagliate dietro o chiedo scusa però non lo lasciate lungo e non fate il foro ok quindi guardatemi bene prendete la penna nuova ok levate sfilate ok poi levate il tappo dietro fate il taglio davanti chiaramente come vi ho fatto vedere prima mettete all'interno fate chiaramente questo sempre mettete questo mettete questo all'interno così fate così guardate chiudete poi ragazzi vi do il metodo poi sarete più bravi di me poi a farlo ci mancherebbe tirate giù così e andate a vedere i pallini che vi interessano a voi ok 18 19 20 una volta arrivata quello semplicemente prendete questo il tappo qualsiasi sia quello che avete voi lo misurate qua vedete imbattuta il pallino deve andare imbattuta qua quindi lo mettete qui vi fate un segno preciso dove va tagliato in questo caso vi faccio vedere guardate io mi aiuto con questo per quello che l'ho fatto vedere io metto questo guardate poi mettete un pezzo di nastro quello che volete ok vedete qua sono a filo per cui più di questi non me ne possono entrare io so che la mia battuta deve arrivare qua quindi levo il tutto e vado a lavorare sul taglio guardate adesso chiaramente non lo taglio perché non l'ho misurato però io vado a prendere la mia plastichina che so che deve arrivare qua ok prendo il mio pezzo di nastro è molto semplice ragazzi lo appoggio qua e il nastro lo metto qua guardate vi faccio vedere vedete il nastro è a filo qui quindi cosa faccio io devo tagliare qua taglio qua quindi questo dal nastro in poi lo butto ok lo butto beh in questo caso ragazzi sì giusto stavo vedendo cosa sto e di qua è giusto no no ragazzi vabbè ragazzi avete capito non lo sto a rifare il video perché avevo tre cose davanti e il contrario vabbè ve lo spiego molto velocemente ho preso la semplicemente la penna al contrario ok quindi metto i colpi denti colpi pallini dentro vado a rifarlo ragazzi e abbiate pazienza dai allora dalla parte lo rinserisco di nuovo ok faccio così giro al contrario questo ecco e da qui che devo tagliare in questo caso questo se lo voglio a misura praticamente questo vi consente di avere i giusti pallini dentro io preferisco quel metodo di prima con lo stuzzicadenti ok però la stessa cosa qua fate questo prendete la misura io ragazzi non vi do la misura che ho tagliato io nella mia perché non ve la do perché vedete come stanno quei pallini d'essa sinistra sembra quasi un bifilare perché più largo il tubo se io vi dessi la misura giusta del mio se voi poi prendete delle sfere dove all'interno è più stretta è ovvio che i pallini stanno più diritti e quindi diventerà più lunga la misura state semplicemente così contatevi i pallini quando poi arrivate mettete il dito sotto dalla parte dove andava la punta mettete questo lo fate andare a filo ragazzi scusatemi per prima l'ho fatto andare a filo stesso discorso levati i pallini che non servono più perché è dato dal filo della plastica stessa cosa mettete questo prendete la carta mettete questo in battuta così appoggiato senza spostarlo ovviamente come misura così e mettete il nastro a filo dove va tagliato ok rimisurate ricontrollate questo e questo vanno bene vedete vanno bene da qua in là taglierò tutto taglio però cosa succede qua c'è il filetto se io parlo se avete il filetto è qua c'è un filetto quindi qui questo andrà tolto con la lima dove la lima ecco andremo a consumare qua sentite il gradino qua questo va tolto perché il filetto l'avete tagliato adesso perché se cercate di inserirlo con forza track lei si spaccherà la plastica si spacca quindi andate a consumarlo tutto ok se avete difficoltà continuate semplicemente a consumarlo e deve entrare abbastanza bene dentro non fate l'errore di spingere forte se no lo spaccate comunque poi è buona cosa alla fine con del nastro girarlo qua intorno senza prendere il tappo non vi serve cioè mi spiego una volta che lo inserite sto parlando solo se avete il filetto ragazzi se non avete il filetto non serve inserite dentro entra ok e poi mettete del nastro intorno io vi consiglio quello termo estinguente per capirci questo quello che più lo tirate più lui si tira si allunga vedete questo qua vi faccio vedere che non molti lo sanno gli elettricisti si usa appunto lo usano gli elettricisti questo si chiama termo estinguente tipo termo estinguente perché il termo estinguente quella pellicola che la scaldate con una fonte di calore e diminuisce di volume quindi stringe i fili però vedete se io faccio così guardate l'allungo guardate le dita guardate le dita come si avvicinano e non si piega vedete lui torna indietro ok va bene questa è una curiosità lo mettete qui e quando non sul tappo che non serve così potete levarlo quando volete e poi lo tirate mentre lo fate un giro solo serve ok così siete sicuri che insomma non vi si rompe e avete la misura vostra semplicemente e poi avete visto come si carica in maniera molto veloce poi successivamente vediamo ragazzi come vanno i video farò un po di recensioni farò la prima su questa poi ho una 92 dell'umarex questa è una swiss arm co2 la 92 invece dell'umarex è sempre inferiore a 7,5 joule ma lì ci vuole già il porto d'armi e a co2 è molto più potente non so se fa 5 joule 5 e mezzo questa non arriva ma arriva al massimo di 1,7 joule sono tanti e ovviamente ragazzi queste pistole qua almeno chi mastica un po di questo non lo dico tanto per loro ma lo dico perché appunto non conosce tanto l'argomento queste pistole qui vanno usate esclusivamente da persone maggiorenni infatti quando farete l'acquisto ci vogliono i documenti vi devono registrare come giusto che sia non è una pistola da soft air perché le pistole da soft air sono da 6 mm sono in plastica e pallini e o elettriche o anche a co2 ma devono essere inferiore al joule e ragazzi quando si va a giocare ci si deve divertire non è che ci si deve far male quindi queste non sono pistole giocattolo neanche il co2 neanche quelle da soft air sono tanto giocattolo è ovvio che se uno si spara a un metro si fa anche male però vi garantisco che chi pratica questo questo bellissimo gioco o sport perché comunque è anche uno sport perché fate tanta ginnastica le sa queste cose ok lo fa perché proprio ci si diverte ci si incontra con gli amici comunque ragazzi mi raccomando dopo faremo come vi ho già detto qualcos'altro e vedremo come va il canale ragazzi vi aspetto e mi auguro che vi iscrivete che vi iscriviate iscriviate scrivete va bene lo stesso e che cliccate sulla campanella ragazzi e farò un po di strafalcioni ma purtroppo il mio difetto è che parlo molto veloce poi quando mi sento dico ma non devo fare così e lo rifaccio di nuovo comunque niente vuole essere un canale così naturale con tutto rispetto agli altri che sono bravissimi infatti si prende un po di uno un po dall'altro perché sinceramente io mastico ancora poco di queste cose però vi parlo così come se vi vestite davanti ok ragazzi ciao se c'è qualcosa che ma credo che sia abbastanza chiaro al di là del fatto che mi sono nuovamente prolungato all'inverosimile per dire una cosa molto semplice però ecco sempre il timore che qualcuno non possa essere in grado di poterlo fare mi scrivete non abbiate problemi o mi potete contattare su messenger con dei video vocali non vi preoccupate ragazzi ok ciao buona giornata a tutti grazie di avermi ascoltato e vi ringrazio ancora se vi iscrivete e se mi aiutate a far crescere il canale ciao ragazzi grazie